Partiti, inizia quindi il primo tempo di Napoli-Lazio, si gira Mertens, va subito a girare la palla sulla destra, verso Lozano, avanza anche Di Lorenzo, Lozano verso Mertens in aria, un rimpallo, la palla in dietro a Zilischi, Gol, 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 gol. Balza in vantaggio ai Napoli, il compagno Zilischi batte Reina, aveva davanti a sé lo specchio della porta e non ha sbagliato, un grande abbraccio, va verso i compagni che sono in panchina e zuza. scatto di insigne che riceve in questo istante vada Mertens, verso il centro Mertens salta un avversario il tiro gol 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 dopo 9 minuti Napoli 2 Lazio 0 un'azione meravigliosa che cosa ha fatto il Napoli un gol spettacolare di Dries Dries Mertens Fabian riceve va quindi ad allungare verso Lozano limite dell'aria tocco per Mertens a volo gol 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 magia magia di Dries Mertens Napoli 3 Lazio 0 e lui va sulla linea di fondo e va quasi a giocarellare un passo di danza e beh stasera il numero 14 ha indossato i panni di Maradona per un attimo anche se con il destro e non con il sinistro ma che gol un pallone liftato un pallonetto ed è riuscito quindi a segnare il 3 a 0 passaggio fai per di Lorenzo quindi Fabian col sinistro vuole tirare lo fa gol 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 e poker poker del Napoli col sinistro magico Fabian Reus batte Pepe Reina che si è tuffato in ritardo all'angolino aveva minato Fabian che come gli concedi qualche centimetro diventa davvero un cecchino micidiale unbelievable Napoli 4 Lazio 0 e da lassù Diego sarà sicuramente felice perché Orsato fischia la fine dell'incontro il Napoli doveva vincere e l'ha vinta con un poker mettendo sul terreno di gioco un poker Napoli quindi che vola da solo al comando in classifica ciao